È stata una bella convention elettorale, un'inaugurazione di una campagna elettorale di Pietro Marino candidato all'Ars, prima l'Italia e la Lega. Quindi gli onori di casa li ha fatti anche la Lega, stasera qui al Visir in rappresentanza della Lega l'onorevole Annalisa Tardino, europarlamentare ma candidata anche alla Camera. Le prime sue sensazioni? Ma sensazione certamente positiva e non avevo dubbi. Con la forza dei fatti e con Francesco Foggia oggi ho avuto il piacere di rafforzare il rapporto tramite Pietro Marino. Non siamo dei novelli, ci siamo già conosciuti. Conosco la forza e la voglia di costruire bene per questo territorio di Francesco e del gruppo di Francesco. Io credo che la presenza di un europarlamentare che ha dimostrato in questi tre anni di mandato di aver mantenuto i rapporti col territorio e di aver lavorato per il territorio. Oggi candidata alla Camera è la dimostrazione che la Lega Salvini premia, a differenza degli altri partiti, sta ascolto ai territori. Nel territorio degrigento io sono la massima espressione a livello istituzionale, a livello europeo appunto. La Lega ha voluto premiare con il lavoro svolto con la mia candidatura. Una candidatura che si unisce in una squadra che sarà quella insieme, come abbiamo detto, in questa bellissima convention con il futuro senatore Mimo Turano, l'assessore di oggi. E speriamo, se tutto va bene, con la deputazione regionale, con il volto di Pietro Marino. Riteniamo che la squadra potrà portare risultati attraverso un partito che del territorio e della difesa del territorio ne ha fatto sempre la propria forza. E certamente è noto a tutti come lo sviluppo di certi territori in cui la Lega ha governato e governa, ne sono un'ampia dimostrazione. Noi crediamo che attraverso questo strumento, lo strumento politico, saremo in grado di dare veramente un cambiamento alla politica territoriale siciliana. E in questa sede credo che ci sono persone che hanno già dimostrato che si impegnano per il territorio e che vogliono continuare a farlo. E quindi spero che ce ne daranno la possibilità. Un bel messaggio che giunge direttamente a Salvini. Lei si farà sicuramente portavoce di una candidatura forte, direi anche fortissima, di Pietro Marino, non solo a Mazzara ma nel territorio. Certamente, il senatore Salvini è informato di tutto quello che succede. A 360 gradi, ecco sì. Quindi mi farò ancora una volta portavoce di quello che ho riscontrato in questi anni, perché come dicevo prima non è una novità, è del lavoro che sta svolgendo Pietro Marino. E quindi in bocca al lupo a Pietro, in bocca al lupo alla squadra. Ademagliora, onorevole, Francesco Foggia. Prima l'Italia, la Lega, si chiacchiera a Vanvera, perché poi è stata fatta una bella sottolineatura nella conventione stasera. Il centrodestra era con l'Udc, rimane tale, quindi non c'è un cambiamento in rotta. Diciamo che noi ci abbiamo messo sempre la faccia, a prescindere la sigla dei partiti che possiamo rappresentare. La Lega oggi è una grande realtà a livello nazionale e a livello europeo. Io parto dal presupposto che chi parla male della Lega è perché è contrario a prescindere. Noi invece non siamo contrari. Noi siamo contrari a chi non vuole bene a questo territorio. Noi siamo contrari a chi vuole il cancro di questa città. Noi siamo invece per il fare. Francesco Foggia, Pietro Marino, Anneliese Tardino, sono persone che amano i fatti, Mimmo Turano, Idem. Non sono persone che lasciamo volentieri le parole agli altri. L'abbiamo sempre dimostrato nel corso degli anni, sia mentre che sollevamo i ruoli politici, sia senza ruoli politici. Ad oggi dico che noi abbiamo messo tutta l'anima e il corpo per fare questa squadra. Una squadra fatta dal governo, partendo dalla parlamentare europea, all'assessore regionale Mimmo Turano, a cui ringraziamo. Perché se oggi siamo qui è proprio questa importante unione che c'è stata tra la Lega e Mimmo Turano. Un'intesa importante che sicuramente scaverà dei tunnel importanti a questo territorio e aprirà orizzonti perché noi abbiamo una politica dei fatti del territorio ma soprattutto una politica rivolta al popolo, alla gente che ci rappresenta. Perché noi se siamo qui ad oggi è perché il popolo ci chiede di essere rappresentati. E noi siamo orgogliosi di fare questo tipo di scelta, siamo orgogliosi di rappresentarli, ma siamo orgogliosi soprattutto per questa importante vittoria che arriverà il giorno 25. Tutti insieme, uniti, scenderemo in campo per Annalisa Tardino alla Camera dei Deputati, per Mimmo Turano e per Pietro Marino. L'obiettivo è quello sicuramente di una grande vittoria. Tutti insieme sono convinto che più malitari nella Lega di Salvini trionferà ancora una volta nella città di Mazzara del Vallo. Che sei un personaggio umile, caro Pietro, onesto, leale e schietto, lo sanno tutti, non solo a Mazzara ma in questo territorio e nella provincia di Travari. Sei un personaggio che ha carattere, però stasera ti ho visto con questa marea di gente, con questa grande folla, un tantino emozionato. È chiaro che l'emozione fa parte dell'essere umano, Franco. Anche se mi sento di essere un leone come Francesco e anche la nostra deputata Annalisa Tardino, l'emozione è la cosa più bella che l'essere umano può avere. E io mi emoziono. Io sono innamorato degli amici miei, di tutti coloro i quali mi stanno vicino. Quindi sono orgoglioso di essere emozionato. Però io vorrei lanciare un messaggio, Franco, perché tu dici che io parlo chiaro e parlo sempre chiaro. Che nel discorso una cosa mi sono dimenticato a dire. Tutti i social, c'è molta gente che si nasconde, non mette la faccia, si nasconde dietro un computer, dietro una sedia, una scrivania e inizia a dirti sempre parlo dalla mattina alla sera. O vive nell'anonimato? Vive nell'anonimato. Sono gente incapace, gente che non hanno fatto mai niente, gente che sanno solo distruggere. Io a questi li ringrazio perché grazie a loro che mi fanno la campagna elettorale e che mi stanno facendo vincere l'elezione. Perché anche i loro amici, stanno diventando i miei amici, si stanno innamorando anche loro di me. Perché parlano sempre di me. Io li ringrazio di vero cuore perché è grazie a loro che sto vincendo la campagna elettorale. Non hanno gli attributi ma tu invece li ricevi e li metti in atto. Io faccio le fatte, metto la faccia e ringrazio tutti questi che si nascondono e mi vorrebbero distruggere le mie persone e tutti gli amici miei. A noi non ci distrugge nessuno, Franco. Noi siamo forti, siamo una squadra, abbiamo le spalle larghe e non abbiamo paura di nessuno perché siamo onesti, leali, corretti e soprattutto persone per bene. La gente ci vota e ci voterà per questo. Infatti lo slogan parla chiaro, datemi fiducia perché sono uno di voi, perché io sono uno di loro e le voglio rappresentare, non ho paura a dirlo. Quindi chi parla male di me di fatto non è altro che un bugiardo, una persona che non ha fatto mai niente nella vita e che si nasconde guarda caso. Io non mi nascondo, io mi assumo le responsabilità. Ogni giorno faccio 100 cose, probabilmente chi fa 100 cose ne sbaglia 10. Non sbaglia solo chi si nasconde e non fa niente. Io sono quello che faccio, voglio sbagliare e sbagliando faccio le cose e veramente mettendoci sempre la faccia insieme a tutti gli amici l'errore ti porta poi a fare le cose che non farai lo stesso errore per la seconda volta e quindi ci aiuta a crescere sia a me, sia agli amici, sia al territorio dei Mazzatevalle e tutta la provincia di Trapa. A De Maiora Pietro, te lo meriti. Grazie. 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 Grazie.